Ciao Entriamo perciò nel video del viveo con i risultati del concorso Ottavo posto Settimo posto A questa posizione troviamo l'opera di Flash137 che ha interpretato il tema della forgia realizzando una caverna Ma, intendiamoci, l'estetica non è affatto male, però non è una forgia I rimandi al tema sono tanto sporadici da essere trascurabili e, diciamolo, alcune soluzioni spaziali non sono delle migliori Il sesso poss- Il sesso se lo giudica Zero Coffee che ha impiegato tutte le sue forze per creare la forma più sus possibile Finendo però per fare un utilizzo dello spazio abbastanza inefficace Possiamo qui, infatti, vedere corridoi, 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 corridoi Ah, giusto, e poi in questo angolino c'è una fornace Ma tutta la stanza è vuota! Ed ecco che salendo in classifica inizia anche ad aumentare la dignità umana dei partecipanti Cilomerotte realizza per noi un edificio più plausibile di quello di Coffee, ma anche più edificio di quello di Flash Il principale problema di questa architettura è prevalentemente funzionale e percettivo Che si sia all'interno o all'esterno Infatti, più che una forgia ci si sentirà ospiti in una casetta medievale Magari graziosa, però decisamente troppo ricca di elementi estranei al tema Al quarto posto l'edificio di Andras Darkmist Che ha interpretato il tema realizzando una sorta di forgia demoniaca, di antro oscuro o qualcosa del genere Il risultato è complessivamente ben uscito e credibile Ma ci sono alcune ragioni puntuali che gli hanno impedito di arrivare sul podio Per quanto l'architettura sia molto brava a raccontare quel che vuole essere Alcuni dettagli non sono il massimo dal punto di vista estetico Ci sono alcune soluzioni spaziali discutibili Come quella di aver collocato alcuni degli importanti blocchi tematici All'interno del vano scala, quindi in un'area di passaggio Oppure questo corridoio abbastanza suscettibile di querela Fra i vari problemi, comunque, c'è anche una stanza segreta con un ammogus nero Il vincitore del terzo posto è Natale 15 Il tema della forgia oscura è riscontrabile anche nella sua architettura Ma con un trattamento dei volumi molto diverso dal concorrente precedente Al pian terreno la sensazione di essere in un ambiente da forgiatore è ben presente E sviluppate in maniera caratteristica e singolare Riuscendo in una restituzione dinamica dello spazio Che intende la struttura non solo come un edificio funzionale Ma come un meccanismo industriale vero e proprio, sempre vivo e operante Al piano superiore il tema diventa più labile È soffocato da un eccesso di elementi fuori tema Che indeboliscono l'effetto forgia Ma complessivamente questo terzo posto risulta un buon esempio di banco da forgiatore E soprattutto, ricordate A volte nella vita non sempre chi perde perde A volte chi perde vince Il secondo posto se la giudica Z super microwave trattino basso Che dire Rispetto a tutti gli altri concorrenti Microonde realizza ambienti esteticamente eccezionali Ogni anfratto è curato nel minimo dettaglio E ogni stanza nuova risolve la stitichezza Dal pavimento alle pareti all'arredo tutto è studiato con cura Non lasciando neanche, per sbaglio, la benché minima parete vuota Ma allora, se questa architettura è così bella ed eccezionale Perché non è al primo posto? Andiamo a scoprirlo insieme! Oh, e questa sala da pranzo è proprio bella E questa biblioteca contiene un sacco di bibli... e di teche Oh, e guarda qui ci sono i letti per l'equipaggio E dal terrazzo c'è proprio una vista... magnifica Ok, lo so Dire che il vincitore del concorso coincida con il fondatore del server Con l'organizzatore del concorso E con quello che sta parlando in questo momento Non è il massimo Quindi lasciatemi spiegare Cominciando dai problemi La mia architettura ha oggettivamente un livello mediamente buono Più o meno in tutti i campi Ma quanto ha estetica e originalità Non eccelle affatto Apparendo piuttosto come una struttura anche più ordinaria di quella di Andras Tuttavia, se alla fine si è deciso di porla come vincitore Ci sono diverse ragioni Oltre a essere la candidata a ricevere più voti popolari È l'edificio che meglio esprime il tema della forgia Collocando ambienti e funzioni nel modo più chiaro ed efficace Differentemente da tutti gli altri concorrenti Qui ogni stanza ha un proprio utilizzo specifico Ben aderente al tema del concorso E non ci sono elementi che si allontanano troppo dagli intenti originari Dovendo dare un giudizio definitivo Si potrebbe dire che tutti quanti Abbiano creato opere davvero molto carine e apprezzabili Ma nessuno, neanche i primi tre posti Sono riusciti a esprimere al 100% il tema del banco da forgiatore Per concludere il video Ecco coloro che hanno preso il massimo dei voti nelle singole categorie Logicamente il riconoscimento per la migliore aderenza al tema va A meh Mentre la migliore estetica se la giudica a microonde Insieme al distintivo per le migliori soluzioni spaziali La migliore funzionalizzazione degli spazi Ed... Ah beh ci siamo capiti Mentre l'architettura che più si è spinta nell'originalità Concretizzandosi anche discretamente bene È stata quella di Andras Bene per questo video è tutto Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di partecipare alla competizione Ma anche quelli che hanno preso parte alle votazioni Nei prossimi giorni riceverete i vostri E l'ho ripetuta troppe volte questa frase All'interno Vi devo dare i premi Vi do i premi Va bene Le medagliette Ci rivediamo per l'edizione autunnale Ciao Ciao